Nelle ultime ore è arrivato un annuncio inaspettato su Mirta Merlino e sul suo ruolo a Mediaset, l'azienda ha preso la sua decisione Mirta Merlino, dopo aver lasciato l'aria che tira il A7, ha esordito a settembre 2023 a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi l'ha infatti voluta al timone di pomeriggio 5 L'arrivo della giornalista ha segnato un cambiamento importante per il format Non solo perché dopo 15 anni Barbara D'Urso ha dovuto dire addio al suo posto, ma anche per le modifiche editoriali che l'azienda ha deciso di apportare al suo interno Come la stessa conduttrice aveva fatto sapere, il contenitore sta portando in onda temi riguardanti soprattutto la cronaca e l'attualità Nella seconda parte, invece, entra in gioco il gossip ed argomenti più leggeri In questi mesi si è continuamente parlato dell'andamento di pomeriggio 5, spesso mettendo a confronto gli ascolti delle passate edizioni condotte dalla D'Urso Proprio nelle ultime ore, sulla presenza della Merlino a Mediaset, è arrivata una notizia che spiazza il pubblico di Canale 5 Mediaset, l'annuncio spiazza Mirta Merlino, grossi cambiamenti in vista per la conduttrice Dopo aver lasciato la 7, Mirta Merlino è arrivata su Canale 5, al timone di pomeriggio 5, non senza polemiche Il pubblico, infatti, da un giorno ad un altro, si è ritrovato a dover salutare Barbara D'Urso Proprio per questo, la nuova edizione condotta dalla giornalista non è iniziata nel migliore dei modi Sembrerebbe, però, nonostante siano trascorsi mesi, che continui a resistere il malcontento di una parte di telespettatori, e secondo le ultime voci, anche da parte della rete Come riporta Novella 2000, che riprende un'indiscrezione lanciata da D'Agospia, si vocifera che tra i corridoi di Cologno-Monzese si starebbe pensando ad una nuova rivoluzione dello spazio pomeridiano In questo caso, il riferimento a pomeriggio 5 è esplicito Si dice che l'azienda non voglia modificare la formula del programma, il cambiamento dovrebbe, invece, essere legato al suo volto di punta Secondo alcuni rumors, la Merlino potrebbe essere addirittura sostituita Punto ed in merito, è spuntato il primo nome, quello del giornalista Giuseppe Brindisi, che ha già sostituito più volte la conduttrice in sua assenza C'è, chi, però, sostiene che Mediaset voglia riprovarci con un volto femminile, ed è emerso il nome di Veronica Gentili, attuale presentatrice delle Iene Al momento, si tratta soltanto di indiscrezioni, che potrebbero essere confermate o smentite, durante la presentazione dei prossimi palinsesti televisivi Mirta, intanto, continuerà a portare avanti pomeriggio 5 fino alla fine della presente edizione e non è detto che non sia riconfermata Grazie a tutti